ben ritrovati amici del canale anche oggi pescata dedicata alla trota nello specifico oggi sarà 100 per cento struttaria quindi porterò con me una canna sola ondulanti rotanti qualche altro art bates crank e altro niente mattinata fresca siamo sui 5 gradi però speriamo di trovarle attive niente tra l'altro mi leggo in un nuovo nuovo lago per cui vediamo quelle che riuscirò a combinare a tra poco in pesca per vedere com'è andata grazie a tutti a 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai. 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 belloccio di 2003 corrosante la flumen atrosa vai 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 no eccolo Nooo! No via! Stai ho sempre fatto un cazzo! Questa è la fotofoglie, anche bella noccia. Questa è la maniera. Con questo affanino cinese, tra l'altro, una copia di qualcosa, non so come si chiama. Nooo, la persa. Questa è la cosa che ho provato. E poi si va via. Questa è la maniera. Direi che c'è un controsenso, però... Staggeggino. Questa è la maniera. 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 Questa è la maniera.